Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo, nessuno è mai salito dal cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Parola del Signore. Parola del Signore. Sia lodato, Gesù Cristo. Sia lodato, Gesù Cristo. Il testo che abbiamo ascoltato, tratto dal capitolo ventunesimo del Libro dei Numeri, in questa festa dell'esaltazione della Santa Croce, in questa prima lettura, è un po' la sintesi del nostro percorso di vita, proprio in relazione alla croce. Perché noi diciamo che celebriamo la festa dell'esaltazione della Santa Croce, ma non è che noi la croce la esaltiamo proprio così tanto. non è che riteniamo la croce qualcosa di esaltante, perché noi fuggiamo di solito la croce, noi chiediamo a Dio di toglierci le croci, noi non diciamo al Signore dammi le croci, dammi la croce, noi diciamo tutto il contrario. Quindi è un po' paradossale celebrare la festa dell'esaltazione della Santa Croce quando di fatto noi non la vogliamo mai. E non la vogliamo mai perché come il popolo di Israele non riusciamo a sopportare il viaggio. Il viaggio di questa vita, il viaggio fatto di ogni giorno, il viaggio di questo nostro percorso terreno che è brevissimo perché forse anche di cento anni, cento anni che cosa sono? Sembrava ieri Natale, sembrava ieri che avevamo diciotto anni e guarda oggi dove siamo. Il tempo passa velocissimo. Cioè nonostante spesse volte lungo questo viaggio noi parliamo contro Dio e parliamo contro i suoi profeti, colui che Dio manda, i suoi musè. Parliamo contro di loro perché perché noi reputiamo che la causa della fatica e del viaggio stia in Dio e nei suoi musè. Cioè noi incolpiamo loro del fatto che questo percorso è faticoso. li incolpiamo perché ci viene comodo farlo. Di fatto è una grande menzogna come adesso vedremo, però siccome la croce non è esaltante, appunto, noi subito la togliamo dalle spalle. E cosa diciamo? Diciamo quello che diceva il popolo di Israele, stesse cose. perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Tradotto vuol dire meglio per noi vivere da schiavi che correre il rischio della libertà nel deserto. Meglio per noi vivere da schiavi con le certezze dei cocomeri, delle cipolle, dei cetrioli che, voglio dire, una grandissima certezza, schiavi massacrati di lavoro dagli egiziani con i nostri bambini che vengono presi e trucidati perché il faraone si è svegliato e deciso che meglio questo meglio morire senza costruire nulla per noi ma solo per loro per gli egiziani meglio questo che vivere liberi nel deserto nell'incertezza del domani perché questo Dio ci chiede di vivere solo nel presente perché il domani appartiene a Lui vuole pensarci Lui noi preferiamo un domani di schiavitù legati agli egiziani di un domani di libertà legati a Dio esaltazione della Santa Croce no 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 questa è la negazione della Croce la negazione assoluta della Croce la Croce la Croce è proprio l'immagine del domani fondato sulla fede in Dio e non è la nostra vita chissà perché questi qui vedono solo il deserto che poi anche questa cosa è interessante no per farci morire in questo deserto ma chi di loro è morto in quel deserto lì nessuno fino a quel momento e questo è interessante tu ci hai fatti uscire per morire in questo deserto ma chi di voi è morto ma chi è che è morto nessuno ma chi di voi è morto di fame e di sete nessuno non è morto uno ma neanche un gatto se c'era nel deserto neanche il gatto è morto di fame e di sete nessuno non è morto nessuno non c'è scritto da nessuna parte che a motivo del deserto della siccità della fame del sole di non so qua molti morirono per inedia per perché non potevano più sopportare la sete ma questo non c'è non è morto nessuno è frutto della loro dei loro fantasmi è frutto del loro dubbio delle loro ansie delle loro paure della loro mancanza di fede tutti questi morti nel deserto per colpa di Dio Dio ha mantenuto la sua promessa Dio è rimasto fedele uscite sono usciti e non è morto nessuno non solo non solo questi che vedono solo il deserto e pensano ai cocomeri d'Egitto questi qui sono gli stessi che vedono la colonna di fuoco che li precede vedono la colonna di nube di giorno vedono il mar rosso che si apre vedono la manna vedono che esce acqua dalla roccia vedono le quaglie che arrivano cioè ne vedono di cose no loro vedono solo il deserto tutti questi miracoli incredibili che Dio compie per loro per spianargli la strada loro non li vedono cioè li vivono ma non li vedono non li registrano non diventano parte della loro vita e dicono così da poter dire va bene adesso cioè non possiamo pensare di coltivare i cocomeri che ci viene sul cocomero piccolino diventa sempre più grande come il cetriolo e la cipolla e ci diciamo domani ci avremo tante cose da mangiare non lo possiamo dire però abbiamo visto il mar rosso aprisse davanti a noi che facendo i conti della serva è un pochino di più di un cocomero di un cetriolo di una cipolla no e noi siamo così nella nostra vita Dio compiuto di miracoli incredibili ma piuttosto che accettare la logica della croce cioè la logica della fiducia dell'abbandono in Dio noi preferiamo la schiavitù del peccato perché qui proseguono non c'è né pane né acqua e siamo nauseati da questo cibo così leggero ma vi rendete conto che in una frase hanno appena affermato la assoluta contraddizione cioè un filosofo ascoltando questa frase direbbe non hai detto niente perché ti sei contraddetto con dieci parole da solo in filosofia non ci si può contraddire perché se tu lo fai ti dicono subito non hai detto nulla perché non può esistere la contraddizione in un ragionamento logico quindi tu dici che qui non c'è né pane né acqua ok quindi non c'è né da mangiare né da bere giusto e siamo nauseati di questo cibo così leggero ma allora c'è da mangiare o no? che cos'è questa roba che stai mangiando? non c'è l'acqua sei sicuro che non c'è l'acqua e come hai fatto vivere 40 anni senza acqua come è possibile? in realtà non c'era il pane è vero? hanno ragione hanno ragione che non c'era il pane perché il pane era troppo banale il pane il pane Dio Dio è di più Dio non si fa battere in generosità Dio non ti dà il pane la manna non era pane è vero? non c'era il pane loro stessi dicono in un altro passo della scrittura che la manna aveva il sapore della focaccia condita con olio madre mia dovrebbe essere una roba buonissima immaginate il focaccione condito con l'olio che ti arriva dal cielo alla faccia che non c'è il pane no infatti non c'è il pane c'è la focaccia c'è la focaccia condita con olio aveva il sapore dice la scrittura di questa focaccia oleosa condita con olio una cosa buonissima e questi e questi che la mangiano dicono no non mi piace troppo leggera ma da quando una focaccia condita con olio leggera non è un grissino vedete Dio ti può riempire di mille doni addirittura della manna di questa focaccia impastata con olio buonissima che tu neanche hai cotto che tu non hai neanche impastato che te la trovi lì al mattino con la ruggita del mattino che quando la metti in bocca ti viene in mente la focaccia più buona del mondo non è sufficiente perché non è il cocomero d'Egitto perché tu non la puoi conservare perché ogni giorno devi fare un atto di fede per averla perché tu devi attendere il giorno dopo per averla ancora e il giorno dopo pure questa è l'antitesi della croce loro in queste tre righe hanno espresso tutta la loro mancanza di fede in Dio e quindi arrivano i serpenti no perché giustamente Dio dice se dobbiamo parlare di morte parliamo di qualcosa di vero adesso ti faccio vedere cos'è la morte visto che tu dici che state morendo tutti allora vedete bene cos'è la morte guardatela con gli occhi perché voi non sapete di cosa state parlando qui nessuno sta morendo nella vostra testa voi state morendo ma non è reale adesso vi faccio vedere che cos'è la realtà cosa vuol dire morire questi appena vedono che cos'è la morte subito tornano indietro e dicono no 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 abbiamo parato contro Dio contro di te ti prego 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 il signore supplicolo perché perché ci salvi ah ma allora prima non stavate morendo visto che avevate in mente la pancia con l'acqua e il pane appena vi si tocca sulla vita allora sì che lì subito tornate indietro e vi dimenticate del cibo leggero di cocomere di le cipolle supplicate Dio quindi vuol dire che tu prima non stavi morendo una bugia anche quella te la sei inventata tutta questa cosa qui per giustificare la tua non fede quindi dobbiamo chiedere al signore di di non entrare in questa in questa prospettiva di vita cioè noi dobbiamo essere veri la fatica del viaggio non viene da Dio non viene dal fatto che ci mancano i nutrimenti i mezzi i sostentamenti no 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 la fatica del viaggio viene dalla nostra non fede se noi non abbiamo fede allora diventa faticosissimo e la croce non è più esaltante ma è un abominio se noi invece abbiamo fede noi vediamo attorno a noi mille aiuti da parte di Dio noi vediamo che i fantasmi se ne vanno le paure si sciolgono e le cose gigantesche tornano ad essere normali cioè formiche non dinosauri formiche piccolezze però dobbiamo avere fede e non mettiamoci mai a ripensare le cipolle d'Egitto perché vi rendete conto si arriva alla fine per paragonare e desiderare cipolle e cocomere e centrioli al posto di focacce oleose al posto di focacce che scendono dal cielo cioè focacce questo gusto ecco focaccioso oggi tornando a casa compratevi una bella focaccia oleosa proprio ditevi voglio una bella focaccia piena di olio non quelle dietetiche un po' da anoressici no no una bella focacciona di ete oleosa e mangiatela e pensate dite ma come hanno fatto quelli là a dire che che questa roba è leggera mamma mi rempe per due giorni pensate dite ti rendi conto io mi posso mangiare questa focacciona e poi dire anche che è leggera che è meglio il cocomero d'Egitto mettetevelo lì un bel cetriolo un bello crudo verde è una bella focacciona oleosa voi mangiate la focacciona poi ditemi se preferite il cetriolo verde quando si abbandona la fede è meglio un cetriolo che mille focacce perché quando si abbandona la fede si abbandona il senso della vita serodato Gesù Cristo Gesù Cristo